Il numero di contagi è rimasto invariato, fermo a 61 già da un paio di giorni, ma la città di Biceglie deve fare i conti questa mattina con il secondo decesso di un anziano positivo al coronavirus. L'uomo era ricoverato dallo scorso 6 aprile all'ospedale Vittorio Emanuele II per un problema cardiaco, ma da domenica si trovava in terapia intensiva in seguito al peggioramento del suo quadro clinico. Solo due giorni fa il sindaco Angarano aveva dato notizia del primo decesso di un paziente positivo al covid-19, una donna di 81 anni morta all'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti. Ieri intanto il bollettino epidemiologico della regione ha riportato altri 20 casi di coronavirus per la provincia Bat, facendo salire il totale a 358. I contagi sono aumentati a Minervino Murge che ha raggiunto quota 54, ma anche a Barletta dove le persone attualmente positive sono 21, 6 ricoverate in ospedale e 15 in isolamento domiciliare. Andrea e Canosa hanno superato da tempo la soglia dei 60 casi, nessuna variazione al momento si registra per i comuni di Trani, Trinitapoli, San Ferdinando e Spinazzola. Mentre il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, precisa che i contagi nella sua città sono stati 5 dall'inizio dell'epidemia e che una sesta persona sta scontando l'isolamento domiciliare nel comune Salinaro, ma è residente a Barletta. Lodispoto rimane in attesa dei risultati dei tamponi eseguiti nelle due case di riposo per avere un dato aggiornato. Intanto, con l'attivazione del presidio di Canosa, la ASLBT ha completato la rite Covid sul territorio, che poteva già contare sull'ospedale di Biceglie e sulla patologia clinica del nosocomio di Miccoli di Barletta, dove due sofisticate apparecchiature sono in grado di elaborare 240 tamponi al giorno. A Canosa di Puglia, spiega il direttore generale della ASLBT, Alessandro Deledonne, sono attivi e funzionanti, ben 36 posti letto per la convalescenza post Covid. Questi 36 posti letto originariamente dovevano servire e servono per la presa in carico dei pazienti che, dopo la guarigione clinica e nell'attesa del secondo tampone, quello negativo, quindi in attesa di negativizzazione, può essere trasferito per una convalescenza post Covid. Attualmente questa struttura, che è stata recentissimamente ristrutturata proprio per far posto all'attività di lungodegenza, di riabilitazione cardiologica ed anche della riabilitazione pneumologica, oggi ospita anche pazienti in condizioni di pre-Covid, cioè quei pazienti che per diciamo vicinanza, per contatto a pazienti di RSA ed RSSA che sono risultati contagiati dal virus, vengono a stare qui proprio per una separazione fisica, per un isolamento che da un punto di vista epidemiologico risulta essere ancora la terapia più efficace, proprio per evitare che questi pazienti a contatto con gli altri risultati positivi al virus nell'RSA possano aggravarsi nelle loro condizioni cliniche. Grazie a tutti.